Mi chiamo Angelica, sono una farmacista e attraverso il confine quattro volte a settimana. Penso che le norme sui diritti del lavoro dovrebbero essere armonizzate tra i paesi frontalieri per evitare disparità e garantire che i lavoratori godano degli stessi diritti e delle stesse protezioni indipendentemente dal paese in cui lavorano. Io voglio un'Europa che garantisca queste condizioni e mantenga libera la circolazione dei lavoratori in un mercato del lavoro equo.